Il Museo della Tecnica Elettrica, noto come MTE, è stato istituito nel marzo 2007 con un accordo di programma tra l'Università di Pavia, la Regione Lombardia, la Provincia e il Comune di Pavia. Il Museo espone circa 300 oggetti della collezione SIRTI, ENEL e dell'Università, che consentono al visitatore di ripercorrere la storia della luce dalla scoperta dell'energia elettrica al suo sfruttamento in campo industriale e domestico. In occasione del suo decennale, il Museo intende offrire un nuovo allestimento sensoriale che possa soddisfare la curiosità di chi intende capirne di più delle invenzioni e degli inventori della tecnica elettrica. In particolare, il Museo cercherà di portare a compimento il progetto che ha preso avvio nel 2016 con la creazione di una mappa tattile con il contributo della Regione Lombardia e in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università Dipatia. Per creare questa mappa abbiamo usato una tecnologia di stampa 3D FDM a disposizione del nostro laboratorio 3D Ottoni PV. In particolare per la creazione della mappa abbiamo usato tre diversi tipi di ABS e grazie a questi materiali siamo riusciti ad arrivare a un prodotto che secondo noi ha un ottimo livello di qualità. L'accesso alla cultura per le persone non vedenti o ipovedenti spesse volte è limitato. Con l'aiuto di questa mappa permette sicuramente alle persone non vedenti di poter usufruire dei diversi spazi e soprattutto conoscere in maniera abbastanza autonoma lo spazio all'interno del quale muoversi. Con il vostro supporto saremo in grado di soddisfare la curiosità percepita da bambini e adulti, da chi ha tutti i cinque sensi sviluppati e nonna, di toccare con mano la scienza offrendo una visita nuova e stimolante al Museo della Tecnica Elettrica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.